Bene, siamo in diretta, buonasera a tutti gli amici di Bridges Applite, bentrovati, ci vediamo dopo un po' di tempo. Questa sera con me per parole di luce c'è un'amica, lei si chiama Tania Boschetto ed è un'autrice. Ciao Tania, benvenuta su Bridges Applite. Buonasera, ciao Sara, grazie, ciao a tutti. Grazie a te, grazie a te per essere con noi. Allora Tania, come stai innanzitutto? Bene, benissimo. Bene? Bene. Benissimo. Bene. E so che il tuo benissimo non è a caso, è un benissimo reale. È un benissimo vero, più che reale, vero, vero. È certo, perché l'abbiamo anche scritto, tu sei una ricercatrice della verità, adesso poi ne parleremo durante questa trasmissione. Allora, tu sei con noi questa sera per presentare quello che è stato un po' un mattone che hai voluto posare per raccontare di una costruzione, una costruzione che si sta facendo velocemente imponente ed è la costruzione del tuo cammino in questo percorso terreno. È un cammino che ha origini antiche, antichissime e che ti sta portando a fare velocemente dei passi in avanti nella consapevolezza e sono dei passi in avanti che tu condividi fra l'altro anche con dei gruppi di persone. Partiamo da 314, la verità di noi. Ti chiedo se è possibile, per piacere, dimostrarlo. Eccolo qui, il tuo libro. 314, la verità di noi. Con un sottotitolo che è Scendi dalla giostra delle non verità. Ed è un sottotitolo molto, molto, molto provocatorio. Intanto si stanno collegando i nostri amici su Brises of Light, Tania, quindi vi diamo ancora qualche minutino di tempo per collegarci. Sai che poi la diretta rimarrà comunque a disposizione di chi non potesse collegarsi, insomma, e vederla in questo momento e la potrà rivedere poi quando gli sarà più comodo. Perfetto. Allora, partiamo da questo libro di cui abbiamo appena mostrato la copertina. C'è una giostra in copertina? C'è un cavallo? C'è una giostra, c'è un cavallo. Questa frase non è una frase mia. Scendi dalla giostra delle non verità. È una riflessione che era uscita spontanea in un colloquio con una persona. Ok. E mi era rimasta, è una delle tante coincidenze, tante sincronicità. Una frase che non è stata detta a me, ma mi era stata detta, era stata detta ad un'amica, che probabilmente è anche collegata, è stata detta ad un'amica, Michela, e nel giorno stesso in cui io ho trovato una giostra davanti a me con una targa gialla, targata 314. E lei mi aveva fondi... Che è finito in copertina, non a caso. E non solo. E non solo. Sì. Se l'hai tatuato da qualche parte? Ovunque. Ok. È ovunque, 314 è ovunque. Cos'è 314, Tania? 314 è un numero. Sono le ultime tre cifre del numero di telefono della persona che io amo profondamente. ed è un numero che mi ha accompagnato per 19 anni ormai. 19 anni. Io trovavo ciclicamente, costantemente, questo numero negli scontrini, nelle stanze di albergo, targhe, nei resti, trovavo costantemente questo numero, con questa persona ci eravamo lasciati, però io continuavo a rimbalzare, avevo questo ping pong in testa, perché trovando questi tre numeri... Automaticamente collegavi? Eh certo, faceva proprio, faceva un rimbalzo, boing. Ok. Io pensavo, mi ero convinta, lo scrivo anche nel libro, mi ero convinta di non riuscire a smettere di pensare a questa persona, perché trovavo il 314 ovunque, in realtà è l'esatto contrario, trovavo il 314 ovunque perché lui era radicato dentro di me e quello era il suo modo per manifestarsi e dirmi che comunque c'era, solo che all'epoca io non avevo strumenti, non avevo conoscenze, non sapevo niente. Hai parlato Tania di un amore che esiste almeno da 19 anni, perché... 21 21, prima parlavi di un 19, ecco, da 21 anni, quindi è un amore che avrà avuto degli alti e bassi, è un amore che ha avuto... sono quelli che racconti nel libro, giusto? Sì, è un amore che è fatto di picchi. Di picchi? Picchi in alto e picchi in basso. La via di mezzo nella nostra storia non c'è stata mai, cioè quello che è qui e te non la conosciamo. Non la conosciamo. Stanno già arrivando i primi commenti, quando si parla di numeri Tania c'è subito una risposta, qui su Bridges of Light, e Luisa ci sta scrivendo, mi risuona, come per me l'11, è il numero che ci accomuna sommando le nostre date. Anche per me l'11 è un numero, non solo l'11 maestro, e l'11, insomma, è la data di nascita di mia figlia, è un 11-11, tra l'altro stellina, quindi è l'11 più assoluto che esista, però l'11 per me è molto altro. Scusa di questa piccola parentesi, ma ne ho approfittato per leggere un commento di Luisa e dire a chi ci sta seguendo che ovviamente possono commentare, fare domande, e poi appena possibile le leggiamo. Vai avanti con questi picchi Tania, per piacere, scusami. I picchi hanno contraddistinto questa relazione, che non è solo questa relazione, ma è questo tipo di relazioni. Che tipo di relazione è? È inevitabile cadere a parlarne, no? Certo. È una relazione, faccio fatica a definire la relazione, però la chiamiamo così in questo piano. Perché c'è bisogno, sai che abbiamo bisogno di dare le etichette, ne parli anche tu nel tuo libro, no? Abbiamo sempre bisogno di definire, di etichettare. Sì, è pazzesco come guarda, ne parlavamo qualche minuto fa prima di entrare in diretta, come vedi anche questa cosa delle etichette. Io non l'ho più riletto il mio libro, per cui tante cose, non dico che le ho dimenticate, però le ho un po' messe in disparte. Questa cosa delle etichette non la ricordavo, però guarda com'è perfetta. Forse è proprio scritta all'inizio, no? L'introduzione quasi. Pamma, ci metto una delle mie belle etichette sopra e siamo tutti felici e contenti. Ed è proprio così. Scrivi più o meno così. Ed è proprio così. Io ho un gruppo Facebook che ho, che si chiama Fiamme Gemelle o Copia Sacra, proprio per togliere un po' quell'etichetta Fiamma Gemella. Allora, noi definiamo questo tipo di relazione come un rapporto di Fiamma Gemella. Ok. In realtà è un vero e proprio percorso spirituale, per cui dire Fiamme Gemelle è per catalogare, no? Per dire stiamo parlando di questa cosa qui. Però è proprio un'etichetta, un'etichetta non può contenere l'immenso, non può contenere l'universo. Percorso spirituale invece, percorso spirituale. È proprio un percorso spirituale di te con te stessa. Infatti è proprio qui che volevo arrivare, Tania. Il percorso spirituale è un po' da qui che sono partita. Infatti dicendo che questo libro è solo proprio un mattone, su cui poi hai iniziato a costruire molto d'altro. Perché è stato un po' il racconto di quello che c'è stato prima di ridefinire una nuova partenza. Sicuramente più consapevole o comunque con una consapevolezza assolutamente diversa. Il tuo racconto, il tuo libro, insomma, quello che racconti nel tuo 314, La Verità di Noi, è la storia di questa, chiamiamola relazione, di questo amore infinito, di questo amore che nonostante tutto, nonostante tutti, non si arrende. È un amore che resiste, persiste, insiste. Esiste. Perché esiste e trova sempre il modo, soprattutto, di ricordarti non che esiste, ma chi sei. Bravo. Perché quella è la strada. E questa è la strada che racconti. Allora, racconti un po' come era la Tania bambina. Hai voglia? Era strana. Era strana? È come adesso, sono strana anche adesso. Però ero una bambina, ero una bambina strana, con tanti perché. A volte me ne tornano alla mente, sai, ancora adesso. L'altro giorno parlavo con mia mamma, con cui ho recuperato, per fortuna, il rapporto. Gli dicevo, mamma, ti ricordi che volevo adottare un delfino? Io da piccola volevo un delfino. Volevo che mio papà comprasse un delfino. Papà mi diceva, ma cosa ti serve? Dove ce lo mettiamo un delfino? E non mi interessava averlo. Mi bastava sapere che nel mare c'era un delfino mio. Era una bambina strana, una bambina che si faceva delle domande che secondo me non tutti i bambini si fanno. Ad esempio, questo è proprio, lo scrivo nel libro, il colore verde. Io mi chiedevo sempre se il verde, come lo vedo io, lo vedono anche gli altri. Sì, ma era un loop e io ci potevo stare a girare intorno per giorni a queste cose. O se quando io mi guardo allo specchio, Sara, quando mi guarda, vede quello che vedo io? Domande proprio sulla... Ne ho fatto una domanda meravigliosa, perché oggi, ed è pertinentissima Tania, oggi in un negozio ho incontrato una ragazza che conosco e io le ho proprio detto, perché mi ha detto, guarda, sono stanca, insomma, si è confidata un pochino. E io le ho detto, io sto vedendo i tuoi occhi, mi stanno chiedendo. E le ho detto quello che mi stavano chiedendo, mi dice, ma come fai a capirlo? E gli ho detto, guarda, mi stanno parlando i tuoi occhi, io li sto semplicemente guardando, anzi, forse li sto proprio vedendo. E lei ci è rimasta, mi ha detto, era quello di cui avevo bisogno. Ah, che meraviglia. Mi ha emozionato tantissimo questa cosa, però è esattamente la risposta a... Probabilmente questa donna che ho visto oggi ha dato voce a quella bambina, che assomiglia alla bambina che eri tu. Ma siamo tante bambine. E forse non eri tu così strana. Forse ti sentivi così, perché le etichette erano quelle della stranezza. Ma chi dice cosa è normale? Questa cosa che mi dici adesso è stata la spinta a farmi pubblicare questo libro, che doveva essere un libro solo per lui. Cioè, se anche una sola donna o uomo si può riconoscere in una storia di una nata da quando è nata, una pazzerella da quando è nata, si dice, caspita, ma allora non ero solo io a farmi queste domande da bambina, ma allora non sono solo io che ho vissuto queste cose. Ci sono donne, secondo me, Sara, che sono imbottite di psicofarmaci perché pensano di essere matte. E non solo. Perché non danno una spiegazione a quello che gli capita, si sentono perseguitate dal numero, piuttosto che da, può essere un quadrifoglio, può essere la libellula, le chiamano ossessioni. Non sono ossessioni, ci sono anche le ossessioni. Ci sono anche quelle, perché ci sono. Ma sono dei messaggi fondamentalmente, no? Sono delle spinte a indagare. E forse farsi delle domande è proprio quella, la chiave. Non smettere mai, non smettere mai di farsi domande. Le domande a un certo punto finiscono. Sei sicura? Come sono cambiate le domande di Tania, le domande che si faceva Tania? Tania è una donna, per come l'ho conosciuta e per come la conosco, che si interroga continuamente. Continuamente. Quindi le domande non sono finite? Allora, cervellotica, sono un po' cervellotica. Però le domande, quelle domande, sul perché dell'esistenza, su cosa siamo venuti a fare, su dove siamo diretti, su è impossibile che... Cioè, un essere straordinario come un essere umano sia qui solo per vivere, invecchiare e morire, guadagnare tanto, poco, avere delle... Cioè, mi sembra talmente... Mi sembrava talmente poco. Allora, quando poi ricordi chi sei e hai la fortuna di fregartene, di passare per matta, io sono fortunata perché me ne frego, Sara, di tutti. Nessuno mi paga le bollette a casa, nessuno mi viene a stirare la biancheria, e nessuno mi cava le castagne dal fuoco, non l'hanno mai fatto. Per cui io, del mondo fuori, ho un grande rispetto, ma me ne frego. E me ne frego anche di aver fatto le mie... Di passare da matta. Ho perso il filo del discorso, si vede? Non ti preoccupare, segui plus. Adesso lo ripiglio. Altrimenti ti aiuto io. Io ti lascio libera. No, sì, sì, sì. Quindi, quando tu arrivi a capire chi sei, a ricordare, guardi indietro e tutta la vita bislacca che hai fatto era perfetta per portarti a dove sei oggi. Perfetta, anche nelle tragedie, e tu le conosci, Sara, anche nelle tragedie, nelle catastrofi, in quello che mentre tu lo vivi ti sembra la cosa più tremenda che ti possa capitare, poi arrivi ad un certo punto, io ho 50 anni, ti guardi indietro e dici, ma se io non fossi passata da lì, non avrai fatto quell'altro passino che insieme a quello... Quindi diventa proprio dietro di te una linea retta. Io dico sempre, se potessimo uscire dal nostro corpo e guardare questo piano di gioco che è l'esistenza, dove siamo, e vedere come ci muoviamo su questo... Su questo grande tabellone, mettiamo così, no? Su questo tabellone, e lo raccontavo l'altro giorno in pasticceria a una ragazza, ho detto magari tu vivi con un uomo abusante, hai una mamma che è così, un papà che è colà, e tu mentre lo vivi ti senti maltrattata. In realtà se tu esci da te, guardi da sopra, magari vedi che il tuo traguardo è a dieci metri da te, e che quella mamma che sembra ti stia maltrattando, in realtà ti sta spintonando per farti raggiungere il tuo traguardo, perché tu magari tenderesti ad allungare. Non è semplice. Non è difficile. Prima parlavi di molte donne che magari si sentono pazze solo perché magari la società comune, diciamo così, ha bisogno di mettere la famosa etichetta, oppure di dire ma meglio che vai a farti dare dieci pillole dallo psichiatra e allora vedrai che starai meglio, quando invece magari sarebbe importante farsi delle domande, darsi delle risposte con sincerità, no? È questo che si diceva prima. In verità però ricordarsi, prima dicevi ricordati chi sei, no? Ricordarsi chi si è. Forse è la cosa più difficile, ma una volta che ci si arriva poi è veramente la svolta verso la libertà. Sì, è proprio l'indagare, capito Sara? È proprio il farsi le domande. Però non è che adesso domani uno inizia a farsi delle domande a molto. Probabilmente sono milioni di chiavi che bisogna provare anche prima di trovare quella giusta. Però sai che tutte funzionano. Ti dico un segreto. E tutte forse sono necessarie. Ogni chiave sbagliata fa un piccolo trick. Fino a quando trovi quella che proprio sblocca tutte le sicure, le sblocca tutte. Bellissimo questo messaggio che stiamo passando Tania, perché molto spesso si colpevolizzano le chiavi sbagliate oppure ci colpevolizziamo per aver scelto la chiave sbagliata. Invece pensare che sono tutte a loro modo giusto e perfette in quel preciso momento, ecco che forse le persone si sentono anche meno sbagliate, meno in colpa. In fin dei conti è vero che siamo noi responsabili del nostro destino, ma il destino esiste Tania. O lo creiamo? Allora, io credo per la mia esperienza che sia già tutto scritto. Dovrei aprire un altro capitolo, ma lo scriverò nel prossimo libro. Cambiano i modi e i tempi. Questa è una cosa che mi fu detta tantissimi anni fa. Non da una persona. Io li chiamo i soffi. Mi è stata soffiata questa cosa. Ero veramente una ragazza, vivevo ancora con i miei genitori e sono andata via prestissimo. Avrò avuto credo 19 o 20 anni. È già tutto scritto, cambiano i modi e i tempi. Chi ha visto Sliding Doors capisce quello che sto dicendo. Alla fine le due storie finiscono nella medesima maniera, con due percorsi completamente differenti. La vita è esattamente così. Ci sono dei film che sono dei veri documentari. Sliding Doors è uno di questi. Cioè, il destino è destino. Tu puoi fare dei giri immensi, metterci cento vite, perché non ti fai nessuna domanda. Tanto all'anima non gliene frega niente, sai, il tempo per l'anima non esiste, che tu ci metti un giorno, o che ci metti 5.000 anni, e lei è lì. Il tempo per l'anima non esiste. Se ti fai domande, come si diceva prima, una chiave alla volta, clic, 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 e poi succede, come l'anno scorso è accaduto a me, che nel giro di una manciata di mesi, meno di una manciata, mi si è manifestato... Si, si sono caduti uno alla volta. Tutti i veli. Tutti i veli. Tutti completamente. È stato in quel momento che ti sei ricordata. Chi sei? A volte ancora me lo dimentico. Si fa fatica a tenere il focus H24, perché comunque viviamo in una società che ti riporta dentro, no? Ci sono delle incombenze, comunque fai parte, siamo umani. anche volendo, sì, o volendo o no, con questo corpo fisico ci abbiamo a che fare. Ci relazioniamo con gli altri. Per cui, per quanto uno possa avere... È una domanda? È una domanda. che ho definito una ricercatrice speciale. Lo stavo dicendo. Io sono in ricerca, ma in realtà io non ricerco. È la verità che ha cercato me. Perché non... Io non lo so, Sara, come sono diventata quella che sono diventata. Non lo so. Noi ci siamo conosciute, si può dire? Sì, siamo subriciato. Noi ci siamo conosciute attraverso delle costellazioni familiari, no? Sì, molti anni fa. Io fino a prima di quell'esperienza non sapevo nemmeno cosa fosse l'anima. Certo. Io non lo sapevo. Non ci dobbiamo vergognare di dire una cosa del genere. Fa parte di un concorso. ma è per dirti che anzi, ci rende assolutamente vero dire una cosa del genere. ma non ci siamo conosciute trent'anni fa, voglio dire. Certo, assolutamente. Cosa era? Il 2019, forse? Sì, un paio d'anni prima del covid, quindi 2018. Sì, fine 2018. Sì. Io lì non sapevo, ho scoperto questa cosa meravigliosa, io andavo a dire a tutti fate costellazione, perché venite a contatto, vi rendete conto che l'anima esiste. Cioè, oh, miracolo. Che dimensione diversa da quella a cui siamo abituati, con cui siamo abituati a vivere, e in cui siamo abituati a vivere, no? Cioè, quello si è aperto comunque ad un mondo sconosciuto. Sì, che però ancora non riuscivo a, come si può dire, mi piaceva, ne ero attratta, ma non lo definivo. Poi è successo, vabbè, è successo il covid, e lì io sembravo pazza, perché ero felicissima, per me è stato il periodo più bello della mia vita, sentivo nel cuore un'espansione, come se questo evento avesse dovuto cambiare il mondo, e l'ha fatto. Io ho un ricordo, tra l'altro, Tania, di una costellazione che abbiamo vissuto insieme, in cui tu avevi sentito che stava arrivando qualcosa che prendeva lo tsunami, ti ricordi? Lo ricordo, lo chiamavo tsunami, precisamente un momento, lo chiamavi tsunami, in cui però non riuscivi a respirare, era proprio una cosa che prendeva respiro. Io ho questa immagine, sì sì sì, è stato pazzesco, poi non ci siamo più viste, beh no, perché è stato, poi è stato appena prima, appena prima che succedesse. Eh sì sì sì, era ridosso, era ridosso. Quindi ci siamo viste dopo le riaperture, ti ricordi? Ed è stato, è stato bello, sì, condividere questa cosa. Lì mi sono scioccata da sola, dico la verità. Lì ho detto, non si può dire, ma ormai l'ho detto. L'ho detto, ci becchi però, le prendi. Si è stata la prima eclatante, eclatante quella. È stata, è stata sì, la verità che era arrivata a te in qualche modo. Sì. Forse è stata una delle prime consapevolezze, però una consapevolezza vissuta col seno di poi. Sì, è stata la prima. Allora, questa verità che ti viene a cercare, Tania, cosa viene a dirti? Che domandona! Sì, perché immagino che hai vari messaggi, è una domanda che stavi aspettando, eh, nell'inconscio, perché avevi bisogno di risponderle. penso che il percorso mio sarà il percorso di ogni essere umano. C'è chi lo fa oggi, come lo sto facendo io, c'è chi lo farà l'anno prossimo, tra un mese, tra sei mesi, tra dieci anni, nella prossima vita, ma credo che questo sia il, mi viene da piangere a dirlo. Mi commuove, mi... E noi siamo venuti a fare questo qui, come se questo pianeta fosse un pianeta scuola e l'anima viene qui a fare questo, questa esperienza della dualità, dualità intesa come non due, come coppia, però la scissione, no, in altre, come un fuoco e tante piccole scintille, però sono scintille di uno stesso fuoco, per cui si viene qui, si fa l'esperienza l'esperienza della dualità per rendersi conto che non esiste dualità, ma che si è tutti uno. Tutti uno vuol dire tutti uno, io, Sara, Michela, Barbara, Sole Azzurro, Bezza, Gaetano, Barbara, Maria, che ci stanno seguendo, tutti. Tutti, siamo uno, ma siamo uno con lo scoiattolino, fuori, uno con la cassiera scorbutica del super, certo. Uno, universo, verso l'uno, se noi pensiamo, questa è un'altra intuizione che mi è venuta, pensiamo al Big Bang come ci è stato raccontato, perché poi sono diventata fastidiosa e non mi piace dire complotista, però questa cosa del Big Bang, capito, che è gli scienziati, però non credo che sia venuto nessuno qui a fare delle analisi a ogni frammento che sta nell'universo per poter dire che era tutto parte di uno, però nella parola universo è verso l'uno, è quasi come se l'uno si fosse frammentato, guarda che è bellissima questa cosa, quindi eravamo un'unità unica, si è frammentata in tante scintille, una sono io, una sei tu, una è la tua bambina, una è Pier, una è mio figlio, tutte scintille, tutti frammenti di un unico intero, questo è il Big Bang, se ci pensi, questa è una bellissima visione del Big Bang. È una bellissima visione, che rende tutti in qualche modo uguali. però siamo tutti uguali, tutti assolutamente uguali, tutto quello che è fuori è una manifestazione del tuo dentro, non c'è, se arrivi a questa consapevolezza, vivi la vita con una responsabilità, non responsabilità nel senso che diventi responsabile, ma ti assumi la responsabilità di quello che ti accade, allora non ti arrabbi più con quello che non mette la freccia sulla rotonda, hai capito? perché sai che in un qualche modo ti è piaciuta la freccia? Vai, 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 vai. Non te la prendi più con quello. Buona, sagittario, le frecce. Perché sai, ci vuole tanta consapevolezza, ma sai che tu in quel momento hai manifestato uno che non ha messo la freccia o che ha inchiodato o che vai due all'ora in macchina, perché in quel momento deve metterti in luce e far emergere la tua impazienza e fartela vedere, perché se no ti rimane dentro quell'impazienza e quella rabbia sommersa, nascosta che poi monta, no? Come la panna montata. Certo. invece la possibilità di poterla vedere la vedi, la manifesti, urli a un poveretto che magari gli sta girando la testa e dice per prudenza vado pianino, dimmi. come è avvenuto questo switch in te? Cioè, se prima ti veniva da mandare a quel paese la persona, adesso invece, ok, adesso invece hai la responsabilità, esatto, la responsabilità di capire che quello che succede fuori serve in qualche modo per misurarti, per capire tu a che punto sei, per capire come stai, per capire qual è il tuo livello di rabbia, di tolleranza, cosa ancora devi imparare, cosa ancora, con cosa ancora ti devi misurare se non ho capito male. Allora, come è avvenuto questo cambiamento, Tania? È avvenuto grazie tra i quattordici? Sì. Sì. Allora, tutto quello che abbiamo fuori mi ricollego adesso alla fiamma gemelli, la se posso, Sara. Sì. Questo è una, è una, una considerazione che ho partorito tra virgolette nell'ultima settimana, negli ultimi dieci giorni. Con qualcuno ne ho parlato, forse ne ho fatta anche una diretta sul mio gruppo. Tutto quello che sta fuori di noi è manifestazione di quello che siamo. Si parla tanto di legge di attrazione, no? Che è bellissima perché il pensare di poter desiderare talmente tanto qualcosa da materializzarlo è un sogno. è solo che noi riusciamo a manifestare non quello che vogliamo ma manifestiamo quello che siamo, quello che vibriamo dentro. Quindi spesse volte la legge di attrazione funziona a gran poco. Quando tu capisci che tutto quello che è fuori è dentro e lo riesci a vedere perché ci vuole un po' di pratica ma insomma ci si accorge di questa cosa. Ci stavo chiedendo un esempio pratico guarda è come se se ci leggessimo dentro io e te. Un esempio pratico per aiutare chi ci sta seguendo Tania che non ha ancora letto il libro e che sente una frase del tipo quello che è fuori è quello che è dentro quindi spiegami un attimo con un esempio pratico. Allora parlo direttamente di 314 perché lui è stato il mio scusate recupero la ciabatta e è stato il mio il mio portale dico io io ormai per me è un portale e mi sono resa conto vivendo questa storia negli ultimi 3 anni noi ci siamo rincontrati 3 anni fa dopo 11 anni di separazione totale erano 11 anni che non ci si vedeva per una coincidenza ovviamente ci siamo rincontrati da quel giorno noi non ci siamo lasciati più questa volta era stata questa ultima relazione la terza è stata completamente differente dalle altre come se l'anima che è un'anima unica quella tra me e lui avesse fretta di tornare in quella verità per cui c'è stato un processo è stato strano c'è stata questa che è tipico però dei rapporti di fiamma gemella c'è stata questa bolla d'amore micidiale dove lui mi ha imbottito di informazioni poi lui non è uno spiritualone neanche un po' non è un non è un uomo romantico mi diceva delle cose che erano troppo anche per l'uomo più dolce sulla faccia della terra figuriamoci per lui e io rimanevo un po' così interdetta erano delle cose bellissime ma profonde profondissime tipo lui mi ha detto che noi siamo nati insieme duemila anni fa e che abbiamo fatto cento vite insieme questo è scritto nel libro è stato uno dei messaggi che mi ha dove mi diceva che tra me lui non serve parlare dopo la leggo però perché ce l'ho davanti ed è stupenda posso leggerla subito ci sono storie che nascono senza un motivo apparente sono storie senza tempo storie che sembrano nate ieri oppure duemila anni fa storie che contengono un solo istante oppure cento vite storie che stanno dentro un tempo dilatato o chissà forse quel tempo è solo compresso storie che vanno decodificate intese capite e comprese accolte e risolte storie che dentro quel tempo senza tempo in fondo risolvono te sì questa queste poche righe queste poche righe hanno dato il via al libro io stavo aspettando una telefonata e con la pennina ho scritto queste queste righe da lì ho iniziato quasi ogni giorno ad avere delle delle perle delle delle pillole meravigliose e avevo questi fogliettini vaganti dicevo sarebbe bello raccoglierli tutti ho detto quasi quasi compro una gendina le scrivo e volevo regalarle a lui perché erano tutte frasi tutti i pensieri sulla nostra storia infatti questa dei duemila anni te l'ha consegnata a lui no? sì quello è stato un messaggio messaggio strepitoso ragazzi mi ha acceso una lampadina lui ha acceso la lampadina che poi mi ha portato a cercare ho avuto altri complici in questa io li chiamo complici una lettura di carte io non facevo più le carte sono stata dipendente dalle cartomanti negli anni passati ma fissa ho speso mi infita i soldi non facevo più niente senza il consiglio della cartomante neanche la spesa tra un po' sono riuscita a mollare tutto e da lì ho detto mai più perché poi so che poi ci prendo gusto su quelle cose un giorno ero la prima bugia che lui ho sentito fosse una bugia una cosa che mi ha raccontata che non mi quadrava e dopo pochi mesi che ci si rifrequentava ho deciso di chiamare un'amica a farmi fare le carte e lei mi parla di questo mi dice è un amore carmico no per farvi capire come ero messa io non sapevo cosa fosse un carmico non sapevo cosa fosse una relazione carmica non è rimessa male cioè è rimessa come è rimessa allora cioè fa parte di un percorso non sapevo non sapevo niente ma questo è proprio carmico è brutto mi dà l'idea di un coleotte di una bestiaccia con la corazza a me carmico proprio non mi piaceva e ho dovuto cercare cosa fosse questo carmico talmente era brutto e cerca una cosa cerca due cose ho trovato un bel video completo su youtube che parlava di amori di anime carmiche sì anime compagne anime gemelle fiamme gemelle ho detto guarda per non farmi mancare niente l'ascolto tutto che così mi facciano a quell'immersio eh sì e lì ho detto beh sì effettivamente 314 è un carmico brutto ma è un carmico per cui sai devi ora non mi ricordo cosa dicevo a sto video però insomma non era non era bellissimo ero tutta delusa stavo mal lì no poi le anime gemelle oh che bello sarebbe trovare un'anima gemella sai si sognava e poi in chiusura parlano dell'età no sì eh sì però ecco l'anima gemella è il meglio che uno si possa aspettare per questa esistenza eh ok però rimane sfatiamo il mito dell'anima gemella è bellissimo perché coccola e fa i grattini a tutto l'ego che abbiamo cioè l'anima si fa proprio coccola ego contro ego ci piace a tutti e due mangiare la nutella non si litiga mai poi però finisce anche quello non c'è evoluzione per l'anima si sta belli sfaparanzati su un ego comune per cui non c'è confronto non c'è non c'è sconto l'ego è una comoda poltrona Tania l'ego è una comoda poltrona anche l'ego cos'è l'ego l'ego è tutto ego è tutto ego è tutto quello che ha a che fare con questo piano di esistenza quando si quando io sento dire ma io lo dico oggi eh quando sento dire che bisogna bruciare l'ego perdere l'ego ma ragazzi l'ego non si può perdere lo perdi quando sei morto allora rimani anima noi siamo fatti di anima e di ego se togli l'ego resta l'anima ma eravamo già anima cosa siamo venuti a fare qui nel l'ego allora sono queste le domande no ma se io devo essere anima ma io ero già anima se mi hanno dato sto corpo fisico me l'avranno dato per un motivo sfruttiamo l'esperienza impariamo qualcosa è inutile andare in Sardegna in un in un parco meraviglioso e poi rimanere dentro il bungalow a guardare la televisione sfrutta l'esperienza capisci perché sono queste le domande perché hai reso perfettamente l'idea hai reso perfettamente l'idea con questo esempio quindi perché cosa siamo venuti a fare qui lo scrivo anche questo no ci c'è un po' di lattino andare agli elementari poi le medie le superiori ci laureiamo troviamo il lavoro più figo del mondo che ci piace anche poco e poi diventiamo vecchie andiamo in pensione e muoio questo c'è veramente uno crede che sia questo riuscire ad avere due soldini in banca per poter fare le ferie fighe e poter mettere un selfie su Facebook no non è questo eppure c'è stato un lungo periodo della tua vita in cui credevi che fosse questo così certo succede a molti perché questo è appunto di un percorso di quello no no ma è quello che è quello che la società ti fa vedere la ricerca è quella che ti ha portato oggi a non mettere più gli selfie con la bocca come è che ti diceva una volta no a quello di gallina ormai l'abbiamo detto e invece ti fa interrogare continuamente sul senso fra l'altro mi dicevi prima che i tempi si stanno velocizzando cioè quello che oggi è domani è già vecchio è già vecchio quello che era ieri è stravecchio cioè tutto sta evolvendo alla velocità della luce non a caso si dice così sì hai ragione si sta proprio evolvendo è veloce il processo è velocissimo è fatto proprio di un'intuizione una in fila all'altra se hai le antennine a belle arzille sveglie ti guardi intorno l'universo intero ti parla attraverso i numeri attraverso un furgone con una pubblicità cioè ci sono messaggi ovunque ovunque che proprio ti mettono aspetta che ne ho fotografata una l'altro giorno e ti ho pensata solo che poi ovviamente presa da 700.000 momenti di stellina non te l'ho mandata ed era aspetta che te la dico la becco subito scusami un attimo Tania però ne approfitto così mi rendo magari anche box popoli per i nostri aspettatori i nostri spettatori da casa head says new la testa dice nuovo 6 wow il cuore dice wow era un camion ora ve lo faccio vedere non ci credo si vede Tania io faccio fatica ma il fatto che fosse sul fondo di un camion è tanta roba ragazzi io credo che adesso si veda io credo che adesso si veda la testa dice nuovo il cuore dice wow eh sì le novità no è il nuovo il nuovo che arriva e il cuore esulta sì certo era un messaggio infatti questo devo assolutamente passare la Tania perché sapevo di questa cosa è tutto così se uno è attento proprio a cioè tutto tutto intorno parla è che siamo distratti è capito e non per niente ci vogliono distratti perché se ci svegliamo tutti come la mettiamo è così bello essere attenti ai segni e ai segnali che ci arrivano io ho fatto vari percorsi qualcuno l'abbiamo condiviso altri no perché ognuno poi trova no al suo fuoristrada lo dicevamo prima ognuno ha il suo magari il suo percorso per arrivare poi a determinate risposte e alla verità nel mio percorso per esempio si sono materializzate un sacco di farfalle che non sono farfalle che volano ma sono farfalle che battito d'ali dopo battito d'ali mi hanno portato a dare voce a delle persone per esempio e ho capito che quello era un pezzo della strada che avrei dovuto percorrere per altre sono piume per altre sono monetine come dicevi prima ma era una libellula ci sono vari segnali vari segni che arrivano come si fa a riconoscere Tania quello che è un segnale da seguire rispetto ad uno che magari è un frutto solo della nostra mente allora bisogna vedere da dove si parte partiamo da il cercare il segnale è arrivato un commento di Maria Antonietta che ci sta seguendo ciao Anto che dice grazie verità diventa tutto vecchio nell'istante in cui si comprende eh sì è vero un attimo dopo sei già in cima a un'altra vetta è un processo velocissimo grazie Maria Antonietta la conferma è un processo velocissimo io quando sento di fiamme che sono ancora scusami per l'etichetta ma devo chiamarle così che sono lì stagnanti ferme danni sulla stessa cosa a me fa male il cuore dove magari la preoccupazione mi ha bloccato sul cellulare mi ha bloccato sui social magari sono delle si perde si perde il il senso intenso l'essenza del percorso il percorso di fiamma gemella che è è una scorciatoia il percorso di fiamma gemella ma è il percorso di ogni essere umano però parliamo di fiamme gemelli visto che il libro un po' verte su questo il percorso di fiamma gemella mi sono persa di nuovo cosa stavo dicendo Sara aiutami sulla velocità avevamo eravamo rimasto sulla velocità delle comprensioni tutto diventa vecchio subito sì il percorso di fiamma la profondità dei messaggi il fatto che comunque si 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 il fatto che tanto rimangono fermi sulle cose magari sì e ci si concentra diciamo banali no sulle cose magari minime mi hai riportato nel focus allora il rapporto di fiamma il percorso di fiamma non è una relazione romantica c'è qualcuna nel mio gruppo si offende perché io dico bisogna bruciare se no non si chiamerebbe di fiamma brava che non fa bruciare in maniera provocatoria dico se riduciamo questo percorso a voler andare in montagna a mangiare la cioccolata calda o la domenica al centro commerciale non abbiamo capito niente cioè questa è la via crucis di Gesù qui ne esci martorizzata ma martorizzata che se rimani viva è tanta roba è un percorso difficilissimo di una sofferenza che è disumana ma si arriva a a volerne di più a volerne di più per cui tu arrivi quando comprendi vedi la velocità del percorso come diceva Maria Antonietta la verità è così veloce quello che è vero oggi domani è vecchio quindi sei avido vuoi arrivare già dopo domani per vedere cosa c'è dopo e se io devo attraversare un'altra prova devo attraversare un altro dolore per avere un altro dei miei sussurri dei miei soffi alle orecchie che mi arrivano dall'oltre ma io ben venga io aspetto ogni frustata nella schiena pur di avere conoscenza ma arriva solo attraverso il dolore o arriva quindi attraverso una prova dolorosa o arriva anche in altro modo allora arriva attraverso il dolore fino a quando non capisci chi sei allora senti dolore cioè fino a quando hai la ferita aperta fa male cioè se io butto il sale qui sopra no adesso fa male no però se ho un taglio sì per cui finché fa male c'è la ferita poi non fa più male diventa avidità fa male sì fa male perché un residuo ma forse questo è il livello a cui sono arrivata io adesso può darsi che tra dieci giorni sarà io non senta più male per niente io ancora qualcosa che 314 lo chiamo 314 per riservatezza sì certo e qualcosa che che lui mi fa ancora ti dico la verità va a toccare il mio il mio orgoglio ancora lo tocca e lo tocca piano e allora ci va giù più pesante è come se io immagino sempre tutto un po' in senso figurato no è come se lui fosse qui e mi guardasse proprio da anima anima no e mi dicesse ti senti tanto figa ti senti arrivata ti senti che non ti tocca più niente vero vediamo e bambi randellata capito com'è mi dà una randellata più forte qualcosa che non ha mai fatto qualcosa di mai inaccettabile è come se fosse la la voce del tuo inconscio sì sì ok è un setaccio lui è il mio setaccio Maria Rosaria chiede se puoi fare un esempio credo non so in che momento l'abbia scritto però io credo che si riferisca alle prove hai voglia di raccontare una prova abbiamo sei minuti Tania quindi dobbiamo far presto allora dovremo ripartire magari con un'altra se sarai disponibile riprenderemo la chiacchierata perché vedo che interessa e poi dobbiamo parlare dei numeri vai allora la prova come la dico allora ad esempio io non sono mai stata una donna gelosa cioè gelosa un po' gelosa anormale con lui una gelosia fuori da ogni grazia di Dio allora premettiamo che lui non è uno strafigo non è un uomo bellissimo per me è il più bello del mondo però oggettivamente insomma ce ne sono di migliori e per me è come se tutte le donne fossero lì pronte per accalapiarselo e portarmelo via e che lui fosse disponibile per tutte io ho sempre sofferto questa cosa del tradimento e la riconoscevo ma io vedevo in lui un un traditore e avevo davanti agli occhi in questo piano era così cioè non c'era margine di errore mi si manifestava delle situazioni dove assolutamente lui mi tradiva nella stessa maniera lui mi portava le prove che no e tanto era vera la mia verità tanto era vera la sua queste prove però cerco di fare il prima possibile il tradimento la sfiducia il tradimento l'insicurezza mia non la superi rimanendo comoda e con no amore non ti tradisco figurati non ti preoccupare no tu il tradimento lo superi sbattendo la faccia contro un tradimento quindi tutto quello che Tania temeva e di cui aveva più paura lui me l'ha messo davanti al naso mi ha tradita credo di sì l'hai visto no però ho le prove che lui l'abbia fatto ho delle fotografie di lui fuori da un albergo con un'altra donna e lui mi ha inventato delle scuse quella volta ma a distanza di un anno e lui mi ha portato in quell'albergo a me quindi lui diceva che fatalità era stato immortalato passeggiando davanti a quell'albergo ma un anno di distanza hai portato me in quell'albergo quindi quell'albergo lo conosci bene mi sono fatta una grassa risata all'inizio poi non ho riso più e non ha riso neanche lui perché la parte umana di me è uscita siamo stati in silenzio per qualche giorno ma qual è perché dici manifesti il tuo la tua paura perché ne avevo parlato di quell'albergo ne avevo parlato la sera prima non so se mi hai seguito nelle dirette Sara forse questa cosa io la sera prima raccontavo di quell'episodio successo un anno prima di questa donna di quell'albergo e lui il giorno dopo mi ha portato lì fa male sì fa male ma è stupefacente è straordinario il numero era la camera scusa non ci siamo entrati ah ok niente ho tenuto duro fin in stradina ho detto resisti resisti perché ci devi andare dentro lì capito devi proprio avere avere il coraggio di andare dentro la prova come se ci fosse Dio che ti accompagna capito se Dio ti accompagna dentro al fuoco puoi aver paura c'è lui con te ti porterebbe mai a bruciarti Dio ma tu del fuoco lo conosci hai paura e diresti di no anche a Dio sai perché hai paura quando tu arrivi a dire Dio mi ama e mi porta dentro al fuoco e a me non succede niente la fede la fede ci vuole la fede la fede in Dio non Dio inteso però questa sarebbe veramente un'altra diretta non quel Dio che pensiamo però in questo caso per me lui è il mio è il mio tutto se lui fa una cosa io oggi so che la fa per il mio sommo bene e se lui deve farmi passare da lì non lo fa perché è un sadico e perché è un bastardo lo fa perché a me serve passare per di là io ho fede questo tipo di esperienza Tania avviene solo in una relazione di coppia o può avvenire comunque nella vita allora quella allora la manifestazione il così dentro così fuori così è così è fuori così dentro così sopra così sotto è con tutto tutto è una manifestazione tu entri dentro non succede solo a chi è in una relazione cosiddetta di chiama ma anche dunque il processo alchemico uno lo può qualsiasi essere umano lo può lo può fare tranquillamente esistendo essendo cosciente un osservatore di se stesso con la tua fiamma gemella hai la scorciatoia cioè quello che tu vivi in una vita con lui la vivi in qualche anno i miei sono 21 però io per 21 meno 3 quanto fa 18 18 per 18 sono stata completamente inconsapevole i tre anni che sto vivendo adesso sono quelli dove sono venuta a conoscenza del tema e a me tutta questa roba qui mi si è smossa tra cos'era giugno maggio tra maggio e luglio il nostro amatissimo luglio la maddalena della maddalena abbiamo parlato con Maria Maffucci che è un'unica di British Stoplight ci avevi seguito e io da qui vorrei ripartire con te in un'altra occasione Tania perché adesso il nostro tempo a disposizione è terminato e io devo passare devo liberare spero di non essere stata allora vedo molti commenti alla diretta quindi poi li riprenderemo insieme e darei perché io sono convinta visto anche la partecipazione di questa diretta che dovremmo tornare per portare insieme altri così argomenti che possano essere spunti di riflessione per le persone bravo lo specchio bravissima grazie grazie di cuore a tutti grazie a voi grazie a voi questa sera quanti ci vedranno indifferita passo la parola a Patrizia Petrecchia grazie 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 ciao grazie ciao